Come è nata l'idea di entrare nel sottoterra, nel sottosuolo di Odessa e raccontare la storia di questi ragazzi alla deriva? So, first of all, we would like to know how did you get the idea of penetrating the underground of Odessa and tell the story of these youth who are really adrift? Yeah, it was not an idea which forced me to go penetrating the underground, as you said, but it was a very concrete situation, it was a very personal one, it was a series of accidents in my family and in my life and this underground, this basement, this hell, in a way, it was my try to... it was a place where I started to hide from my problems. In realtà non è che c'è stata un'idea che mi ha portato, che mi ha costretto in qualche modo a entrare nel sottosuolo di Odessa, ma piuttosto una situazione concreta e molto personale, ovvero una serie di incidenti nella mia vita e in famiglia che hanno fatto sì che quel sottosuolo di Odessa era sì, poteva essere un inferno, ma per me è stato il luogo dove nascondermi dalla mia propria vicenda personale. But in the end it was... It was helping, and I suppose it was helping for both sides, for me and for the characters. These three years was not in vain. e l'idea di fare un film è venuto nel primo giorno, dopo l'inizio del primo giorno io li metto, perché era l'unica cosa che potevo partecipare in questa situazione. E quindi penso che questa cosa non sia avvenuta in vano, questi tre anni non si sono passati in vano e comunque l'idea di fare un film mi è venuta subito, dopo il primo giorno ho passato con loro, perché era in realtà l'unica cosa che potevo fare per in qualche modo partecipare alla loro vita e esperienza. Come ha rapportato proprio l'uso del mezzo alla situazione, perché ha giocato tanto con tanti primi piani, forse anche per lo spazio angusto nel quale doveva lavorare, come ha rapportato proprio la macchina da presa a questi spazi e perché indugiare tanto su alcune immagini molto dure, come le immagini della droga, le immagini su questi volti così deformati anche, non so, penso ai denti, di questi ragazzi che hanno passato tanti anni appunto nel sottosuolo di Odessa. Proprio come ha lavorato sulla loro fisicità e sul loro sguardo. Proprio come ha lavorato con loro fisicità e il modo che hanno guardato, con loro occhi, con loro glanzi? Proprio come ha lavorato? Proprio come ha lavorato? very fast and it was quite natural decision that we will stay as honest as possible to our perception of what we are observing the way how the camera is behaves it is the way I and people with me in my crew saw this world this underground and these people and the processes which were going in Allora in realtà la decisione per quanto riguarda l'uso della camera è stata molto rapida e diciamo naturale ovvero il nostro intento era quello di essere il più onesti possibili rispetto alla nostra percezione delle cose che ci trovavamo di fronte e quindi era il modo di rendere attraverso gli occhi e occhi attraverso l'uso della camera quello che vedevamo le persone le esperienze e questo nel modo più onesto possibile I think I was talking about it yesterday as well about the scene with drug injection when I first time saw this scene in real life I was not able to film it I was not able to stop it I was not able to run from it I was not even able to move my eyesight from the veins from the blood from the injections from this needles everything was very close and everything was very detailed and very sharp and but everything inside me was shouting it was it was praying that this will stop right now but it didn't because when the last one was finished because when the last one was finished the first one was starting it again until the amount of drugs was finished so the decision to keep this scene like that in this painful detailed and horrible way understanding very good that it will offend someone it will stay in someone's mind it will torture someone but but this is the truth in my perception this is the truth this is it it is in my head as well the same the same torture the same pictures Allora, il... è vero che ne parlavo appunto anche ieri ne ho parlato al dibattito soprattutto la scena molto forte in cui si vede l'iniezione nel braccio, l'iniezione di droga quando io l'ho vista per la prima volta non ho potuto, non ero in grado di riprenderla, non ero in grado di fermarla, non ero in grado di scappare addirittura non riuscivo a distogliere il mio sguardo da quel punto preciso, la vena, l'ago, il sangue e tutto era estremamente dettagliato, estremamente chiaro, limpido, messo a fuoco e chiaramente dentro di me c'era qualcosa che gridava, che voleva che questa scena finisse immediatamente non voleva vederla più, ma in realtà ciò non avveniva perché appena uno aveva finito di bucarsi passava l'altro finché non era finita la droga e quindi ho deciso di tenerla, questa scena, così com'era, in tutto il suo orrore e sapevo benissimo che qualcuno l'avrebbe vista come una sorta di tortura visiva sarebbe stato disturbato, come lo sono stato io ma quella era la verità, questo è così, questo è quanto era l'unica verità che potevo mostrare grazie mille anche per la traduzione a Donatella Baggio grazie mille anche per la traduzione a Donatella Baggio grazie mille anche per la traduzione grazie mille anche per la traduzione a Donatella Baggio Cheesefaro